ciao ciao e la ragazzi sono sempre io condor oggi siamo con una nuova con un nuovo membro del team condor come sapete conoscete già gli altri paulia oggi ha fatto un po' di uno tu niente piccola 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 eccolo poi il primo moscato ma c'è anche il compagno aspetta o che fatto qua o non ci muoio dovevo ritagliare il pompa sono a livello 51 è una tua vita ma tu hai il pompa ammazzalo spero che trovi mai e la ma devi ammazzarlo adesso c'è ai due scelte tra cannati hai per la prisione 66 secondi per riuscirmi a prendere la scheda ci stava in che modo me l'hai detto poi vai a prendere la scheda tanto se sarà andato non fanno ammazzalo cerca cerca di farlo fuori per cattimenti le butte il compagno sempre prendimi prima la scheda e poi vai a ucciderlo tanto ruire massa sopra fai sopra e dall'altra parte e dall'altra parte sali sopra costruirsi dietro al palazzo dietro no no voglio vedere come c'è la dina ma non fa niente se è da sola sei da solo contro contro uno stanno andare animare il compagno siete due contro uno forse è meglio scappare il seno guarda beh vuoi fare il video te già che ci sei vuoi fare il video te già che ci sei tanto stiamo guardando a te quindi magari facciamo anche grazie a te c'è il compagno adesso quindi o provi o se vai se combatti un suicidio dovresti essere proprio quanto ninja per fare per fatti per per fatti due persone cioè io mi sono io mi sono fatto un terzetto intero però tre contro uno però fa niente ci sono cose che capitano nella vita come ti fai a suicidare e tu sei morto perché tu non sai fare niente ma dove sta ma sei sono andati è pronto anche il reboot però non è la mia scheda quindi è inutile se ne sono andati forse non hai capito se ne sono andati ma io adesso quello che mi servirebbe quello che mi servirebbe per la sfida se fossi vivo ma sono quelli di prima è quello di prima ancora brava è bianco dai ce la puoi fare a hai eliminato un lusso ma ti immagini se era tour hai ucciso un tuo compagno di classe forse non lo sapevo vabbè in caso c'è della scuola che erano sapere esatto ma questo voto questo voto aspira aspira gli oggetti certo allora devo ti faccio un esempio su spa c'è uno con l'auto dietro non credo che c'era farai però confidante no e le tumori c'è quella scuola 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 ecco fa no vuoi fare nel pietre mini prendoli e smel metti preparati il titolo lo metterò cerchiamo il titolo sarà cerchiamo di arrivare al secondo stile di razzo quindi devo fare devo fare tre sfide impossibili perché una già l'ho fatta e mancano altre due e poi dovremmo teoricamente averlo sbloccato lo stile che adesso vedrete nella schermata di caricamento che va adesso che vedrai anche tu poi quando vuoi vedere il video questa parte saprai come sarà lì mi aspetto poi che userò per sempre anche quando io da vecchio giocherò a fortnite con questa skin ho deciso farò video anche da anziano video e live su switch da anziano bellissimo è youtuber e streamer ma guarda che certa gente guadagna un botto è allora vi andiamo alla guia però dovremmo stare insieme mi serve si servono non mi servono delle piuma di un pollo detto che io in questa si sono giocato soltanto questa seconda partita che faccio a bello neanche io non ne conosco alcune alcune armi si possono craftare questa ma guarda quest'anno uscita ieri non uscita ieri quella la è sì sì allora in pratica questa qua quando tu non hai cose per sparare col bazzucca tanto togli un botto e ti e se non fai attenzione ti suicidi ti uccidi con quella vabbè però poi tu in pratica tu non non è niente premi alle due vicino un muro lui lo aspira e ti dai colpi ma livello sei wow io ho trovato uno spazio epico io ho trovato fucile pensate improvvisato è ottimo quel quello la sarebbe il tattico del di quando l'isola era per storica nella guardia ma visto è la guarderia trasportarsi te lo dico ti mi piaccio la schiena mi piaccia sempre con poi non vuole capire che cosa sono qua calmati ero più avanti ero fin eravamo spacciati vette abbiamo perso la partita l'unica volta che trovo un'arma a caso epica il nuovo cesto comune andiamo ad uccidere polli che è la cosa più divertente da fare ma devo farlo anche i lupi i lupi già li ho uccisi anche i cinghiali ho già ucciso mi mancano solo i polli si ma almeno almeno vero è il secondo stile che capito beh non c'erano più i polli non c'erano più polli cosa facciamo dobbiamo trovare i polli perché razza ha chiesto dei polli quindi li dobbiamo trovare ma non farmi vedere se posso craftare qualcosa non posso craftare niente come al solito abbiamo un progetto c'è la paella e leonora ecco questo è uno dei problemi con lavorare con leonora craccia sempre gli è scattata la corrente ragazzi come facciamo adesso ce la giochiamo soltanto noi siamo io e voi adesso mentre devo però adesso devo intrattenere solo io che cosa posso dire cosa posso dire però adesso ciao ciao cinghialo 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 qua vicino eccolo ma ho trovato un cinghialo muori cinghialo vai vai muori mi accade che così poi posso domare tutte cose posso domare i t-rex però devo andare di nuovo da rex perché devo trovare servono dei polli dai che non riesco a trovare dei polli comunque ragazzi commentate cosa vorreste vedere in più cosa cosa vado 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 Non la suono un contro due, ce la farò, forse. La mia autostima è poca in me, ma so che non ce la farò. Voi lo trovo un T-Rex e dove lo trovo un pollo adesso? Spiegatemi dove lo posso trovare. Ho sentito un pollo, almeno credo. Credo di aver sentito un pollo. Se non era quello distrutto, mi ricordo. Voi dove c'è l'alien? Bella la vita quando i tuoi compagni ti lasciano da solo. Quanto è bella la vita. Spari di là. No! Mi hanno ammazzato un T-Rex. No, 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 avete ammazzato un T-Rex. Avete ammazzato un T-Rex, questo lo fermavo bene. Oh no, va bene. Questa cosa avete ammazzato un T-Rex. Non so. Non so quale è delle due. Terra? No! Ma come? Ma se ne ho nello stesso pompa! Vabbè, siamo pronti. No. Come faccio però adesso? C'è un gruppo che mu singolo. Mi manca poco e così sblocco anche la seconda cosa di Rax. No, toì! È appena ritorno. È arrivata dando notifica. Vuole assolutamente bloccare la cosa di Rax. Allora. È appena ritorno. se ce la farò oggi cercherò di sbloccare il nuovo stile di raci wow wow però che non vediamo il copia è lenta che ho cantato una canzone allora cerchiamo sti polli in giro per la mappa revolver allora devo dire che la revolver è una delle mie armi preferite lo dico a voi invece che arma mi piace ragazzi ciao e detto sei tornata finalmente è nata se vuoi la parte della mette in bianco e nero che però la devi editare dal computer quindi non lo posso fare quella roba cosa è quella roba cosa intendi per roba ci sono due sensi 部分 ma più di uscita di roba vabbè vabbè non se intendete come fatto io mi raccomando se pretende di te e se sto intendente siete maliziosi sì c'è mi ha ucciso un premio ucciso franco lino vabbè poi magari non lo dico nome perché anche lui un canale youtube però vabbè agli ame tutta la vita costar ma chiara la potenza che emilia la guiera la protettrice emilia la protettrice della guia se non lo sai il suo nome è emilia lo sapevi tu e ti rivela conto una nuova cosa di forza net perfetto poi favore capire 8 8 mila cesta la come carico esplosivo quanto sono fortunato oggi a parte aver incontrato dal signore emilia però è un altro discorso quello ma che ne so ma perché sei te ecco forse cosa perché no 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 sto intendendo che perché sei l'onore ecco che può vedere dice che non puoi vederle perché deve essere forse puoi vedere solo se serve lo stesso livello quindi arriva a livello 50 per una linea livello 50 potrei vedermi certo scusami al livello 51 ok ti vedo ti vedo semplicità vedete quindi questa cosa che hai detto allora ora cerchiamo un fortunissimo pollo che mi serve altrimenti no perché se non lo trovo io chiudo la registrazione e e tiro un bestemmione off camera io poi ero a livello 41 44 ragazzi ho fatto una fatica immane sono arrivato al livello che sono due metti edo beh però qua trovato un cindiale e l'ho ucciso per spizio cambiava la casa poteva la domestica dei t-rex e se ne frega le t-rex dimmi il pollo c'è un po lo ma lo brucia ma la brucia che la brucia ok 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 c'è un bel con il più ma più ma carmelo famo mi spavano ma sono contento se contenta adesso non me ne manca una devo c-derogli un ucciso un altro pollo Devo trovare un altro pollo e ucciderlo Devo sterminarlo Devo sterminare Tutti i cosi che sono qua Li stermino tutti Qua sono mia Una zanna di lupo, una zanna di cinghiale E tre piume di pollo Mi mancava una piuma di polma Se ne trovo Se ne trovavamo tre Mi mancava una sfida da fare E vabbè sto parlando con i cinesi Adesso vabbè Allora Io poi ho detto Appena si è cresciato ho detto E questo è il bello di lavorare Con Eleonora Che crescia sempre Poi te lo ritroverai nel video Il pezzo che ho detto tranquilla Io la metto Non la taglio Non la taglio La parte Già te lo dico Quindi Preparati No ma Io te l'avrei anche Da tagliata Li ammazzo Sì sono cinghiali No È una bella È una bella famiglia di cinghiali Che verrà sterminata da me No No Non c'è molto Alla piccola Ahia Non nemmeno fai la missione per capire Le rame Che mori con Ahio è andato uno Vai Il prossimo Uccidile Uccidile invece di stare l'interno Va la piccone Ahia Va la piccola Vai Che so Somma Vai 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 Quasi molto Quasi molto Quasi Stanno pure Sparando Mancando E basta Che non so Non ti avevano fatto niente E tu che No 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 Fanno Fanno sempre qualcosa Qualcuno deve sempre Ma non è vero Sono il recinto Sono tranquillissime Che inizia a sparare Aperto 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 E quindi No Te lo ricordi questo Ele Il Colosseo Chi spara Ok Che 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 è il mona Che spara Mentre Ma lo sventro Ci faccio il brodino Oh Soprima Il diario inutile Non lo prendo Forse Dovrei andare Che la safe Sta anche arrivando E devo trovare Ancora un polletto Oh Muori Muori La gente La gente Si nasconde Sempre Le cespugli Infatti Io una volta Posso E tu Perché Che ci fai Un predator Un predator Un predator Selvatico Era Che ho terminato Tu posso crearti Posso creare No Vabbè In caso Mi creavo C'è ancora Della carne C'è Della carne Di cinghiale Di pollo La vuoi Guarda qua No è solo di cinghiale Perché il pollo Me la sono Mangiato Per curarmi Quindi C'è solo carne Di cinghiale Sei troppo Animalista Cioè Non puoi giocare A questa season Tu Sei troppo Animalista Devi Devi sopravvivere Altrimenti Poi Se Se Ti perdi Nel realtà Deve Uccidere Gli animali No Tu Quindi Non vuoi sopravvivere Vuoi morire In poche parole Vero Semmai uccido Le formite Ma Cos Ma Non ti Ma Non ti Spamano No Ma Che Schifo Ma No Noi ci No No Ci No No Mangiamo Carne L'ho capito Però Il fatto Che Gli animali Sì ma Allora Ha Iso Il trailer Ha Desso Anche Della Fondazione L'isola È Diventata Selvaggia Devi Farlo Anche Tu Perché Non lo Stai Facendo Io Sono Già Io Sono Già Entrato Cioè Vedi Io Mi Sono Già Mientato Perché Forse Io Sono No No Mi Mi Dissocio Un attimo In bagno Aspetta No Ma Ma Qua C'è Un Eleonora Che Picca Un T-rex Wow Da un pugno Un t-rex Guarda Guarda La stesa Eleonora Secondo me Quello Sei tu Ma Può Darsi Sicuramente Non sarei tu Mi ero Sbagliato Polly Tizi Gente Trovata Uccidere Fuoco Fuoco È la Risposta Aspetta Aspetta Ma Se non si raccordi Adesso lo brucio Quindi brucio La fanno Aspetta Aspetta Preso L'ho ucciso Eh Io ho fottuto La tira Quella Ho due kill Dove Cerca Di farci Esplodere Poi Ma dove L'altro No Che l'ha Sotto Brucio Tutto Io Bruciare Tutto Deve Bruciare Tutto Ah no Esplosivo Non Incendiario Ho Sbagliato Incendiario Guardate Tempesta Mi sta Di Tra Cuno No Lo so che sta La No Non c'è più Quanto fare Ma Magari Andate No C'è Andata D'altra Parte Dove Ma dov'è No è andato Dietro Tipo La Colimite No Hanno ammazzato Un t-rex No No Ma l'ammazzo Adesso Vediamo Aspetta Che non l'ho preso Guarda si E anche Lui ha preso Me Guarda Divo Gli Sfascio La Famiglia Quella Eh Cos'è che so Per dire Se non l'ammazzi Ti ammazzo No Marone Che impatto E vabbè Questo qua Con lo scarro Da vicino Aspetta Non è la lobby Vai Mi seguiamo Arianna Aspetta Ma cosa Ah V-Bucks Wow Vabbè Me li posso tenere Per la prossima season Poi Non si Non c'è Ho detto Diana Che mi devo mandare Che sennò Per davvero Un casino Dai Allora Ti dico Allora Dai Dobbiamo trovare Un altro Pollo E abbiamo Fatto Allora Senti Vabbè Vedere anche io La La Seconda Allora Mi devi aiutare O troviamo Un pollo Oppure Dobbiamo Dobbiamo Uccidere Una Guardiana A caso Che non Sia Della Guia E poi Portare Il suo La La palla Che Che viene Trautata Dal suo corpo Alla guia Così poi Credo che Danno Le scarpe Volanti E con le scarpe Volanti Poi Credo che Sarebbe L'oggetto Da rubare Ok Quindi Facciamo Questa Cosa Di Una Guardiano No Il pollo Lo Devo Uccidere Dopo Quindi Comunque Deve Morire Il pollo Quindi Il pollo Deve Comunque Morire Un po E poi Non c'erano Patti I polli Minuta Mia Bene 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 Vai Andiamo Forresta Andiamo Sai La Costa Vai E La Vedi C'è Un pilastro Che Sicuramente È Una Voragine Creata Da Da Franco Lino Vedi Cioè Vedi Vedi Ma Non è che Vede Il video Tutto Quello Che ho Detto Può Essere Usato Tutto Quello Che Ho Detto È Tutto Lo Scherzo Ovviamente Per Scherzare C'è Un'arma Per Te E Dei Colpi Cioè Vedi Mi ha lasciato Due armi Apposta Vai Uccidiamo La tizia Vai Andiamo Andiamo Oh Ma c'è uno Che ha aperto Una cesta Sono stato Io Eccola La sorella Di Miriam Ma E qua E qua E qua Paragli Uso L'arco Su tutte le Anche No 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 Ma Ce l'abbiamo Ele Andiamo Alla Guia Adesso Seguimi Andiamo No Non è un lupo Sono te Lupi Sparano Sparano Adesso Lupi No Ho sentito Unulare Allora Ero io Andiamo Andiamo Perché stavo Che cadendo Ecco perché Vai Andiamo Verso La guia Quindi Stai Dicendo Che sono Un Sparano Sparano Non lo posso Pigliare Portamelo Ok Guardamelo Donna Come Scusate Non ho detto niente No No Non ho detto niente Non ho detto niente Tranquillo No No Vedi che domani No Si torna a scurna Eh Lo slaccio Non avresti dovuto Dirmelo È una brutta fine domani Eh Ragazzi Domani Da domani Non farà più Video Live Perché L'ho ucciso Tanto prenderò Un posto Il mio successore Che è Bartolomeo E ammazzo pure lui Eh No Ammazzo L'altro Successore Che non è in grado Di accendere Neanche una live Vedi che ammazzo Tutti i successori Di successori Di successori No Vabbè Tanto Te lo dico Che Che sarà Il terzo Il quarto Vabbè Allora In casa Uccido tutti Quattro Ma gode Uccido anche te Poi scusami Non ho capito una cosa Allora Ma ti dico una cosa Gli spadermen Homecoming No È un film Vabbè In pratica C'è il padre Della Ragazza Di Peter Che gli piace Che andranno Ad un ballo Però Dice Che però Però Volato Lo dice Ammazzerò Tutte le persone A cui tieni Quindi Vuol dire Che ammazzerà Anche a sua figlia Che stupido Ce l'abbiamo Dobbiamo smazzare il pollo Adesso Vai Abbiamo il manufatto Però Non so se Se me lo conta Perché non lo so Dobbiamo Troviamo il pollo Vai andiamo Ma io non posso saltare così Però Vabbè vieni Wow Sono fortissimo Io sono sempre dal Rex Perché lui sa tutto Lui sa Ma è quel tizio vestito da Da Un dinosauro Sì Ma specie Ma c'è una cassa Pollo No Vabbè io non guardo Quando l'uccino Devo Devo ammazzarlo Cioè No L'ultima sfida Mi ha detto Ma non ho capito Niente C'è ancora un'altra sfida No Cioè Abbiamo l'ultima sfida Allora Sfida finale E le Visto che Non sappiamo Google Google Oppure Cerca su YouTube Vai Sì Utile E Ho capito Devo fare Tutto da solo Bene Allora Per il prossimo Ragazzi Qual è la missione Ruba e va un passo Nella guida Come si completa Allora Ho googlato Devo Tornare Là E poi Tornare Da Quindi Pantaloni Erano Inutili Bisogna Anche Tornare Da Ras Poi Svancio Caricando Il controller Il controller Dice Che Non Ce la Fa Più Ragazzi Allora Io sto Googlando Sto Vedendo Ma allora Io sono Ma allora Io sono Da Un Forse Ora ho capito Tutto Io non ci credo Per me Cioè Ho googlato Però Vabbè Non togne anche Più la zona Perfetto Ammazzati Di nuovo Cioè Almeno Ammazzati Emilia Non voglio Non voglio Ammazzati Perciò Non ti ammazzo Oh Su qua Dove Ero Prima Emilia Hai un po' Rotto No Emilia No Meglio Non parlare Non parliamo Non parliamo Ragazzi Meglio Di no Pensavo Di farci Egli una Partita Questo video In pratica Vi spiego Un po' Come fare Le 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 Quindi Almeno Serva Qualcosa Ragazzi Almeno Questo video Servirà Qualcosa Fatte Che Vabbè E L'onora Che Spero Che Si Senta Perché Non so Neanche Se Si Senta Spero Di Sì A sto Punto Mi Fa A sto Punto Faci Un Video Da Solo Guarda Guardate Controller Un Un oh oh e allora si è unita perfetto ciao ma no ma che ho fatto io ma guarda che sono impegnato e comunque il manufatto che avevamo era una cazzata non era quello il manufatto che quello che ho preso non era semplice ho googlato e a quanto pare sta nella guia e so anche dov'è quindi adesso cerco di prenderlo no vabbè ma scusami ma se mi punta a me allora c'è la guardiana che sta puntando sempre solo a me sta cosa non va bene cioè sta puntando solo a me e io non posso fare la sfida così perché tu vuoi la gente oppure mi ammazza vada mi manca l'ultima c'è l'ultima sfida non sarebbe quella della guardiana no no è di trovare il manufatto con quella è la schermata inizia del gioco no ho visto la seconda il secondo stile eh sì ti piace? sì ma infatti lo io ho anche la schermata che poi vedrai tranquilla nel video lo vedrai però non so a che ora si pubblicherà perché sarà un po' lungo forse poi se ci pensi questo video è un tutorial per le sfide di dove devono andare se ci pensi un po' no? in caso potremmo fare anche allora noi alle 20 alle 20 teniamo la live ok? quindi magari vuoi partecipare? ok ok ehm facciamo un parkour magari invitiamo un po' di gente del gruppo e usiamo lo stile che ci abbiamo sbloccato nel video ehm 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 questa questa qua è la nuova skin preferita ehm 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 forza verità sì tranne per tranne per una skin ti ricordi quel pulcino che ti ho mandato? eh il pulcino è gratis è gratis lui oh è il pulcino è bellissimo lo so è bellissimo coccode aspetta aspetta ti faccio anche la voce perchè l'ho poi inventata pio pio ma mi piace questa persona ahahah ahahah sembra ahahah ahahah sembra allora questa qua sembra un un una rana sforzata la mia la mia invece la mia invece era era di un modiaco sessuale secondo me no ahahah ahahah quindi mi dissocio però infatti questa parte la ripi no devo mettere il bip eh devo devo prendere la pennetta usb eh devo prendere la pennetta usb allora perchè dalla playstation non si può mettere ahahah stavo pensando che invece del bip metto metto un'altra cosa un urlo no ahahah dai ahahah ahahah non pensate male ahahah 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 in caso in caso potremmo fare in caso ci facciamo anche un giocono live che te lo guardi te lo guardi dalla live eh rimani nel nel parte e te lo guardi dalla live andiamo sempre alla guia perchè è l'ultima sfida alla guia alla guia poi a cascina al colossale e abbiamo finito e quindi poi sblocchi la skin? esatto perchè sono già scesa? il problema il problema è che il non è calcolato una cosa il problema è che se mi uccidono dobbiamo farci un'altra partita e quindi andrà così all'infinito poi togli il segno togli il segno no 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 devi togli devi togliere lo sto punto ma dove lo metti? qua c'è un qua non c'è neanche un qua non c'è neanche la casa allora io appunto l'ho trovato una volta a caso perchè sta uccendo gente però non c'è dovrebbe dovrebbe combaciare in pratica c'è una parte di muro che non è costruita e dobbiamo eccolo cosa c'è la guardia no ora possiamo fatto andiamocene corri corri si è incazzata dove sa quella bastarda vieni qua lanciati scappa ci ho messo il punto dovrebbe andare al punto corri corri forse siamo un po' lontani forse ma c'è in due minuti ci dovremmo arrivare oh l'impulso l'impulso io me lo so usare quindi me lo so usare dammi 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 non lo fa non lo fare no sono suonate Ele Ele ci sta inseguendo è un pochino arrabbiata non girarti indietro il corpo ma vabbè hai fatto una cosa utile brava io sono un genio ho preso c'è un pollo c'è un pollo però non lo uccido perché l'avevo detto anzi in realtà lo sai che lo potremmo prendere in braccio e volare stai scherzando stai scherzando cosa si può fare prendilo subito e vieni ecco aspetta corri corri no tu per metti di angolo aspetta aspetta quanto corre il suo pollo oh afferra eccolo prendilo piccoli guarda quanto corre guarda quanto corre sto polletto dai pollo vieni qua pollo dai pollo vieni qua e l'abbiamo un minuto e l'abbiamo un minuto ah dobbiamo muoverci o lasciamo il pollo andiamo a piedi oppure siamo qua come dei coglioni venite la seconda dai vai andiamo a piedi allora oh e muoviti vabbè io c'è un altro pollo di quale l'ho preso vai ora vieni vai per il po vai per il ponte tu io prendo l'altro oh sentizio non ce ne frega l'ho ammazzo io l'ho ammazzo io eh io tengo il pollo non posso polletto 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 io sono troppo carini per i setti che fa andiamo vai abbiamo ragazzi mini dai togli il segno ma dove l'hai messo poi il segno eh non lo so ah no c'è la famiglia di cinghiali viva ancora guarda non la uccidere no no infatti non la uccido stavo dicendo però che se mi attaccano no poi devo rispondere anche io con la violenza nooo la violenza è sempre la risposta a tutti no nooo mi raccomando la violenza non è mai la risposta a tutti ragazzi beh o comunque non lo sai che è gli insegnamenti è parte mia però fai tu che li fai ti lascio un pompa intenzione nooo pollo 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 senti ora io vado la perché adesso mi sono scocciato mi piace ci stanno due tizi e non un fucile aspettami si farà lontano aiuto oh oh ho preso uno ho preso uno con ho preso uno con la ho preso uno con la mi ha fatto salire anche di livello ho preso uno con la ho preso uno con la perché l'abbiamo sbloccata mi avete fatto scappare il pollo a terra su infame muori oh no oh eh con le polletto polletto vieni qua prende il po aspetta va vieni qua ti curo e lei non so e le non so se se ho sbloccato lo stile e e le se non se non ho sbloccato lo stile io ti giuro che bestemmio cioè no no e le ho fatto sta fatica in mare per niente no vogliamo quittare vediamo no dai poi ci facciamo se non se non se non ho sbloccato ci facciamo la partita ci facciamo la partita normale con i polletti no 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 muoviti muoviti cosa muoviti cosa no abbandona no abbandona appunto aspetta fino al nostro vabbè ma tanto andranno nella tempesta aspetta prima non la devo fare ho sbloccato aspetta ele 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 ce l'ho bloccato io mi non bestemmi non bestemmi no devo io bestemmi dopo è diverso aspetta mi muto mi mettergo l'attimo alle cuffie tu nel mettere intrattini grazie ma quindi ma ti stavo sparando ho chiuso un piccolo ero è un attimo di là no ci sono tutti mentre mi sparava e ti ho protetta vedi no 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 ma tu sei un pazzo no comprete completa incarichi non comuni o più rari mamma ma non dovevi fare no 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 è l'ultima sfida è l'ultima sfida mamma avevi detto quattro sfide e mamma è puntata questa dai ma io non so neanche quali sono gli incarichi non comuni o più rari adesso c'era però fai schifo ma io comunque sono ancora in una partita ma come mai ho anche ucciso t il tizio che ti stava sparando va bene ok fermo tra pochissimo aspetta devo andare tu non entri intrattieni finché non torno che cosa dove muori infame deve preparare ti spacco il pancreas non torno che cosa doveva Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, non lo potevo dire, ah, forse l'ho detto un paio di volte. Ah, che cosa vuoi dalla mia vita? oddio un dritto ho appena ucciso un dritto allora e le dobbiamo fare credo credo ma sta impazzendo ho fatto 4 kill da sola no fammi farmi parlare allora credo credo che l'ultima la cosa della guia incarichi guia sia l'ultima credo però il problema è gli incarichi comuni o più rari e non so e non so poi quanto durerà il video quindi direi di termine all'acquale ok ho un avviso importante per lui vai dici allora allora se non lasciate like io vengo a casa vostra cioè vi taglio il cranio poi ve lo frullo vi prendo anche il panchias ve lo brucio mi raccomando fatelo iscrivetevi iscrivetevi seguitemi anche su twitch su condor324 e non fate tutti voi grazie a tutti i nostri che ci sono